Per migliaia di anni, re e imperatori si sono serviti di maghi e stregoni nelle loro corti. Scienziate di fama, come Isaac Newton e Nikola Tesla, si dedicavano allo studio dell'occulto. Potrebbe esserci una ragione di fondo che spiega l'efficacia dei culti o delle tecniche magiche. L'ipotesi della simulazione propone che tutta la nostra esistenza sia una realtà simulata, come una simulazione al computer. Se la teoria della simulazione è valida e noi viviamo davvero in un ambiente simile a un computer, ci sarebbero naturalmente dei metodi per penetrare o hackerare il codice. E se questi elementi fossero più che semplici esperienze sensoriali o concetti astratti? Consideriamo i colori, i suoni, gli odori, i numeri e i simboli prevalenti nelle tradizioni spirituali e occulte. E se questi elementi fossero più che semplici esperienze sensoriali o concetti astratti? Se stessero influenzando in modo impercettibile il codice della realtà stessa? Sebbene qualsiasi metafora o analogia sia inevitabilmente insufficiente, il modello informatico sembra essere la spiegazione più probabile del funzionamento della magia. Indipendentemente dai veri meccanismi di funzionamento, chi pratica queste arti esercita innegabilmente un potente effetto sulla realtà. Algoritmi occulti, decodificare e ricodificare la realtà Per millenni il mondo è stato un palcoscenico dove scienza e misticismo hanno danzato in un intricato balletto dalle sale scavate dei faraoni ai palazzi dei re e degli imperatori medievali. Uomini colti, noti come maghi, alchimisti e stregoni, hanno trovato un posto privilegiato ai tavoli del potere. Questi individui non erano semplici buffoni o illusionisti, ma consulenti rispettati dei governanti, apprezzati per le loro conoscenze e intuizioni uniche. Di conseguenza molti irrispettabili scienziati del passato, come Sir Isaac Newton e Nikola Tesla, non si sono tirati indietro nell'esplorare l'elusivo regno dell'occulto. La loro curiosità era alimentata dalla promessa allettante di verità nascoste nel cuore delle arti arcane. Dagli studi di Newton sull'alchimia e la cronologia biblica, alle affermazioni di Tesla sulla ricezione di trasmissioni extraterrestri, il loro lavoro presentava una convergenza unica di scienza e di occultismo, a testimonianza della loro comune ricerca di comprensione dei misteri dell'universo. Nell'epoca attuale dell'informatica quantistica e dell'intelligenza artificiale, un'idea emergente, la teoria della simulazione, suggerisce che la nostra realtà non è così organica come la percepiamo. La teoria postula che potremmo essere abitanti di un universo intricato e programmato, simile a una simulazione cosmica al computer. Questa teoria ha profonde implicazioni per la nostra comprensione della natura e della realtà e, cosa più allettante, per il funzionamento della magia e del mondo occulto. Potrebbero esistere modi per hackerare o riprogrammare questo codice cosmico? La domanda sorge spontanea. Potrebbero esserci degli strumenti per hackerare o riprogrammare questo codice cosmico? E se tali manipolazioni sono possibili, i simboli, le formule e i rituali utilizzati nelle tradizioni occulte potrebbero essere proprio questi strumenti? Comandi complessi nel linguaggio di programmazione universale. Immaginiamo un mondo in cui i colori, i suoni, gli odori, i numeri e i simboli non siano semplici esperienze sensoriali o concetti astratti, ma comandi complessi all'interno del linguaggio di programmazione universale. Ogni incantesimo potrebbe essere visto come un copione e ogni rituale come una serie di input attentamenti orchestrati che innescano alterazioni nel codice cosmico. Questa prospettiva conferisce una nuova affascinante dimensione alla comprensione delle pratiche mistiche e occulte. E se questi colori fossero qualcosa di più di semplici rappresentazioni simboliche? I colori sono stati a lungo utilizzati nei rituali esoterici per i loro significati simbolici associati. Il rosso per la passione, il blu per la tranquillità e così via. Ma se questi colori fossero più che semplici rappresentazioni simboliche? Nella realtà modellata come simulazione, ogni colore potrebbe corrispondere a una frequenza o a una lunghezza d'onda unica. Un pezzo di codice unico che, se usato in modo appropriato, potrebbe innescare un'alterazione specifica nel tessuto della realtà. Allo stesso modo, i suoni sono stati parte integrante delle tradizioni spirituali e magiche. Trance, canti e mantra sono noti per indurre vari stati mentali ed emotivi. Visti attraverso il prisma della teoria della simulazione, questi suoni, con i loro modelli di frequenza unici, potrebbero agire come codici sonori che causano delle oscillazioni nel programma cosmico e provocano i cambiamenti previsti nella matrice della realtà. Anche gli odori hanno il loro posto in questo grande disegno. La combustione d'incenso durante i rituali, le fragranze specifiche utilizzate nelle pratiche spirituali potrebbero introdurre un codice chimico distinto nell'equazione della realtà. Questi input aromatici potrebbero attivare risposte predeterminate nella simulazione cosmica, contribuendo alla manifestazione dei risultati desiderati. Numeri e simboli. Questi elementi fondamentali delle pratiche occulte si inseriscono perfettamente in questo quadro di simulazione. Nell'informatica, i codici binari, sequenze di 1 e 0, sono usati per codificare ogni tipo di informazione. Immaginiamo i numeri come un codice numerologico unico, un elemento fondamentale per interfacciarsi e manipolare il programma cosmico. La geometria sacra, la numerologia e i contrassegni simbolici potrebbero essere le chiavi del grande linguaggio di programmazione dell'universo. Molte figure importanti, non solo della storia, ma anche del mondo contemporaneo, hanno esplorato la numerologia. Il loro fascino non è infondato. Se la nostra realtà è una grande simulazione, la numerologia potrebbe essere il decodificatore per comprendere i suoi principi fondamentali. È un'idea lettante, capire il linguaggio dell'universo e forse influenzare la nostra realtà usando il codice numerologico. Se sei stato incuriosito da questo concetto e desideri sperimentare qualcosa che possa scuotere la tua comprensione della realtà, ti incoraggierei a esplorare una lettura numerologica. È un'esperienza che ha lasciato molti a bocca aperta, spingendo i confini di ciò che credevano reale. Se ti immergi in questa convergenza di magia e teoria della simulazione, incontrerai numerosi esempi, uno più affascinante dell'altro. Che si tratti della geometria sacra di un mandala, del dominio cinetico della danza rituale o del codice minerale delle gemme, ogni elemento potrebbe interagire con il codice cosmico, influenzando la realtà che percepiamo. Indipendentemente da dove ti porterà il tuo viaggio, ricorda che la numerologia può essere un punto di partenza perspicace. Una lettura numerologica potrebbe non solo sconvolgere la tua mente, ma anche aprire una porta verso una nuova comprensione della tua realtà. Tuttavia, come tutte le teorie, questa prospettiva non è priva di limiti e sfide. L'analogia della simulazione al computer, pur offrendo un modello convincente, non può incapsulare completamente la miriade di sfumature e complessità di una realtà e di esperienze. Fornisce una cornice metaforica che ci aiuta a comprendere l'incomprensibile. Non è in grado di fornire prove definitive o previsioni verificabili. Tuttavia, non si può negare la particolare efficacia di certe persone esperte in queste arti esoteriche. Sembra che abbiano un profondo impatto sulla realtà circostante, un'influenza che non può essere facilmente liquidata come una semplice coincidenza o effetto placebo. Forse questi esperti hanno inconsciamente affinato la capacità di interfacciarsi con il codice dell'universo attraverso l'intuizione, l'addestramento o il puro talento e sono riusciti a penetrare nella matrice della realtà. Mentre l'arcano della magia continua a rimanere avvolto nel mistero, la prospettiva che la nostra realtà sia una grande simulazione offre un punte tra la mistica e la scienza, tra ciò che si vede e ciò che non si vede, tra l'umano e il divino. A quanto pare, siamo parte del codice cosmico, di un grande disegno e forse, nell'eco di un incantesimo o nel tratto di un simbolo, abbiamo il potere di plasmare la nostra realtà. Consideriamo l'intricato disegno di un mandala, una forma d'arte diffusa in varie tradizioni spirituali, in particolare nel buddismo e nell'induismo. Ogni curva, ogni forma, ogni colore posizionato in un mandala è intenzionale e contribuisce al suo significato spirituale complessivo. Sotto la lente della teoria della simulazione, un intricato disegno di un mandala potrebbe essere visto come un sofisticato codice visivo. Ogni aspetto corrisponde a un comando specifico del programma universale. L'atto di creare o meditare su un mandala potrebbe servire come metodo di input per interagire con il codice cosmico, influenzando così la simulazione in modi impercettibili ma profondi. Allo stesso modo, anche la tradizione spirituale della danza sacra potrebbe essere interpretata attraverso questa nuova prospettiva. In molte culture, la danza è considerata una forma di culto o di comunione spirituale. Ogni movimento, ogni ritmo e ogni gesto in queste danze potrebbe essere considerato un comando cinetico, un modo per interagire fisicamente con il codice della realtà. Dalla pratica sufi dei dervisci rotanti alle danze sacre delle tribù dei nativi americani, queste danze e rituali potrebbero inviare una cascata di istruzioni al programma cosmico, modulando la natura di ciò che percepiamo come realtà. Se torniamo a concentrarci sul regno del suono, possiamo esaminare l'uso delle campane in varie tradizioni spirituali. Sia nei templi buddhisti che nelle chiese cristiane, il suono delle campane indica momenti spirituali importanti. Le frequenze sonore uniche prodotte da queste campane possono essere viste come comandi uditivi che interagiscono con il codice cosmico. Ogni suono può causare un'ondulazione nella simulazione della realtà, risuonando nella matrice dell'esistenza. Inoltre, il significato delle gemme nelle pratiche esoteriche potrebbe essere interpretato sotto una nuova luce dalla teoria della simulazione. Le gemme, apprezzate per le loro proprietà metafisiche, potrebbero essere viste come codici minerali, ciascuno con una composizione strutturale unica che corrisponde a un comando specifico nel linguaggio di programmazione universale. L'uso di una particolare gemma nel rituale o in qualità di talismano potrebbe attivare aspetti specifici del codice cosmico, influenzando di conseguenza la realtà. Anche la numerologia presente in diversi sistemi esoterici potrebbe essere vista sotto una nuova luce. Il significato mistico attribuito ai numeri della Kabbalah, nel Pitagorismo e in altre tradizioni potrebbe essere interpretato come codici numerici per interagire con il programma cosmico. Il Pitagorismo Il fulcro del Pitagorismo era che l'universo e tutte le cose al suo interno erano fatte da numeri e quindi tutto poteva essere contato. La frequente ricorrenza di alcuni numeri, come il 7 nella mistica cristiana o il 108 nell'induismo e nel buddismo potrebbe rappresentare costanti o variabili fondamentali nel codice cosmico. In tutti questi esempi vediamo quanto queste pratiche siano profondamente radicate nelle varie culture e tradizioni spirituali del mondo. Ogni pratica potrebbe contribuire al hacking collettivo della simulazione cosmica, modificando e modellando improvvisamente la realtà che percepiamo. Tuttavia, questa interpretazione non sminuisce il significato culturale e spirituale di queste pratiche. Non mira a ridurre il ricco arazzo della tradizione umana a semplici sequenze di codice cosmico. Al contrario, fornisce una nuova prospettiva, una lente con cui guardare e apprezzare queste pratiche. La meraviglia e lo stupore ispirati da queste tradizioni rimangono solo ora completati dal fascino e dalle possibilità introdotte dalla teoria della simulazione. L'ipotesi della simulazione propone che tutta la nostra esistenza sia una realtà simulata, come una simulazione al computer. Sebbene questa prospettiva offra un modello innovativo per comprendere il funzionamento dell'occulto, è importante notare che rimane una teoria speculativa. Come tutte le teorie, deve essere esaminata criticamente, messa continuamente in discussione e perfezionata costantemente. Tuttavia ci invita a riconsiderare il confine tra scienza e spiritualità, a immaginare una realtà più flessibile e malleabile di quella che abbiamo immaginato in precedenza e a mettere in discussione la natura stessa della nostra esistenza.